Al via la bonifica dell'ex mercato Orto Frutticolo in via Pisacane ad Arezzo. Il cantiere infatti ha preso avvio questa mattina, i lavori proseguiranno sino alla primavera 2020. La ristrutturazione è partita dalla demolizione delle parti pericolanti come vetri, intonaci e solai. I locali saranno poi sottoposti anche ad un intervento di pulizia e disinfestazione. Prima dell'avvio dei lavori la polizia locale di Arezzo ha anche effettuato un sopralluogo alla ricerca di occupanti abusivi. Negli ultimi anni infatti i locali da tempo abbandonati si erano trasformati in più occasioni in giacigli di fortuna per senza tetto. Diciamo che è stata infruttifera la bonifica di questa mattina perché evidentemente sapendosi che si stavano per cominciare i lavori gli occupanti abusivi hanno già lasciato il posto. Era comunque necessario che la polizia entrasse dentro per verificare che non ci fossero più persone all'interno perché da stamani iniziano i lavori della ditta che si è aggiudicata l'appalto per la realizzazione dell'orto creativo. È una struttura multifunzionale per la quale una destinazione è in corso di definizione ma che sicuramente funzionerà soprattutto come bonifica di un sito altamente inquinato ma anche altamente fatiscente per cui tutta la zona dovrebbe avere un certo miglioramento. Devo dire che è una riqualificazione molto importante. Come quella dentro Arezzo ce ne sono varie. Pensiamo alla Lebole di altro tipo, pensiamo alla 1R di altro tipo ancora. Cioè è tutto quello che una volta era industria che stava dentro il perimetro cittadino e che nel tempo ha perso questa funzione. Allora bisogna pensare a funzioni alternative. Lebole credo che ormai sia in dirittura d'arrivo con una riqualificazione dell'area sostanzialmente in ambito commerciale. 1R sappiamo che è in una procedura fallimentare quindi ancora non è passata di proprietà. e il mercato ortofrutticolo invece è del comune e parte una operazione di ristrutturazione.